Musica Installate retende per lo smistamento dei potenziali pazienti di coronavirus Le infrastrutture sono state installate questa mattina dalla protezione civile negli ospedali Sirai e CTO del Succis Iglesiente Grazie ad esse si accoglieranno e canalizzeranno i potenziali contagiati dal virus senza passare dal pronto soccorso Nuovo furto stanotte nella città di Carbonia, stavolta a preda dei ladri è stato il negozio BricoWord, sito nella centralissima via Roma I ladri penetrati forzando la porta d'ingresso si sono impossessati dei registratori di cassa e dei soldi contenuti al loro interno Si è spento ieri Luca Lacasella, l'ex comandante dei vigili urbani di Carbonia a cavallo tra gli anni 80 e 90 Si è spento all'età di 79 anni nella sua casa di Carbonia circondato dall'affetto dei suoi cari nel Tg Il Nostro Ricordo Carbonia arrestato perché evaso per la seconda volta dai domiciliari L'uomo, un 48enne della città, è stato nuovamente sorpreso al di fuori della propria abitazione Nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per un furto compiuto lo scorso mese di dicembre in un'abitazione di Carbonia Ben ritrovati su Canale 40, come avete sentito dai nostri titoli di apertura in primo piano Una notizia che riguarda la salute e le misure a contrasto del coronavirus Questa mattina infatti, così come è accaduto negli altri nosocomi sardi La protezione civile ha installato la tenda per il pre-triage per ogni potenziale paziente colpito da coronavirus e negli ospedali del Suncis Iglesianti All'ospedale Sirai abbiamo intervistato il responsabile delle operazioni Vittorio Uras Questa mattina all'ospedale Sirai di Carbonia, così come al CTO di Iglesias e in tantissimi altri ospedali sardi la protezione civile sta installando una tenda che servirà da pre-triage per i pazienti potenzialmente colpiti da coronavirus Una disposizione di sicurezza che l'assessorato regionale della sanità, l'ATS, hanno predisposto per fare in modo che i pazienti che potenzialmente possono essere colpiti da questa patologia non debbano necessariamente passare dentro il pronto soccorso e costituire così un pericolo, un rischio per gli altri pazienti e ovviamente per il personale sanitario Un'iniziativa importante che si allinea a quelle già prese in ambito regionale per tentare di contenere la potenziale epidemia di coronavirus Diciamo che noi della protezione civile ci siamo occupati fondamentalmente della logistica quindi portare tende, montare, rendere vivibili per tutto quello che riguarda la parte sanitaria se ne occupa chiaramente la direzione sanitaria dell'ospedale, in questo caso Sirai e quindi il pronto soccorso, la dottoressa Lantini Lo scopo è quello fondamentalmente Dovesse arrivare qualche paziente con sintomatologie che potrebbero richiamare al Covid-19 probabilmente verrebbero portate qua, messe, fatte una determinata procedura e poi comunque separate dagli altri finché non si esclude che sono infette e contaminate dal virus Quindi una misura di sicurezza che viene approntata qui in ospedale per separare e canalizzare diversamente i pazienti Questa tenda sarà strutturata, all'interno avrà una dotazione tecnologica? Allora la tenda avrà tutti i comfort ma fondamentalmente ci sarà una scrivania delle sedie per i pazienti probabilmente una branda che però verrà messa dall'ospedale e basta, non ci sarà tanto di più, oltre chiaramente alle dotazioni sanitarie che sono necessarie immagino che l'operatore abbia poi tutte le dotazioni, la mascherina eccetera quindi questo è lo scopo di questa tenda in questo momento Questo è in tutti gli ospedali della Sardegna, sono state già montate le altre quindi abbiamo terminato con questo intervento e quello che stiamo facendo anche adesso al CTO di Glesias uguale intervento Simultaneamente quindi? Simultaneamente, ecco non giù chiudiamo per questo territorio insomma Voltiamo pagina, passiamo adesso alla cronaca Nuovo furto questa notte a Carbonia Stavolta i ladri hanno preso di mira il negozio Brico World nella via Roma Vediamo il servizio Non a cena diminuire il fenomeno dei furti in abitazioni e attività commerciali nel comune di Carbonia Negli ultimi giorni sono state messe in atto diverse iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica ma soprattutto per sensibilizzare le istituzioni Per venerdì prossimo ad esempio è stata organizzata una fiaccolata nel centro città ma già ieri il problema dei furti è stato sollevato in ambito nazionale con un'interrogazione che è stata presentata al ministro dell'interno Luciana Lamorgese Praticamente dal primo gennaio 2020 quasi ogni giorno si è verificato un furto o un atto di criminalità nella città di Carbonia e anche la notte scorsa purtroppo non ha fatto eccezione L'attività commerciale che vedete alle mie spalle ovvero il Brico World è stata presa d'assalto dai ladri questa notte che si sono impossessati dei due registratori di cassa all'interno dei quali erano presenti centinaia di euro Un fatto che è stato denunciato ai carabinieri è che insomma si unisce, si somma a tutti quelli che sono stati compiuti nelle scorse settimane e che veramente stanno angosciando la popolazione di Carbonia Adesso ancora la cronaca perché in diverse operazioni i carabinieri della Compagnia di Carboni hanno dapprima denunciato due giovani donne della città per furto ai danni di un pensionato e successivamente una coppia di pregiudicati sempre del posto per ricettazione Un'altra coppia stavolta nel comune di Sant'Antioco trovata in possesso di un oggetto precedentemente rubato al proloco del paese Sentiamo Continua incessante il lavoro dei carabinieri della Compagnia di Carbonia i quali negli ultimi giorni hanno compiuto diverse operazioni per il contrasto dei reati predatori e in particolare furti in abitazioni e attività commerciali Nella prima i militari hanno individuato e denunciato alla Procura della Repubblica due donne considerate responsabili di un furto in denaro ai danni di un pensionato residente nella via Dalmazia Le due, lo scorso 5 febbraio, si sono recate a casa della vittima con la scusa di proporsi per effettuare dei lavori di pulizia e approfittando di un momento di distrazione della stessa si sarebbero impossessate di un borsello custodito nel tavolo in cucina contenente la somma di 650 euro dileguandosi subito dopo e facendo perdere le proprie tracce In una seconda operazione invece i carabinieri hanno denunciato a piede libro una copia di pregiudicati per il reato di ricettazione A casa dei due, dopo una perquisizione domiciliare è stata rinvenuta della refurtiva fra cui un robot da cucina precedentemente trafugato in data 13 febbraio 2020 a casa di un commercialista nella via Lubiana a Carbonia Sono in corso le indagini degli inquirenti per individuare i proprietari di altra refurtiva ritrovata all'interno dell'abitazione oggetto di perquisizione domiciliare Nell'ultima operazione, compiuta a Sant'Antioco i carabinieri hanno fermato due giovani pregiudicati del posto nel mentre che si aggiravano nelle vicinanze di un compro oro Dopo i controlli di rito e una perquisizione i due sono stati trovati in possesso di una spila in oro giallo con le insegne della proloco cittadina per la quale non hanno saputo giustificare il possesso e quindi, presumibilmente, secondo i militari di provenienza ilecita e delituosa La spila è stata sequestrata e i due denunciati I carabinieri invitano tutti i cittadini che recentemente hanno subito dei furti a presentarsi alla caserma di via Granci portandosi appresso la denuncia di furto allo scopo di riconoscere eventualmente i propri oggetti sottratti Si è spento ieri nella sua casa di Carbonia all'età di 79 anni Luca Lacasella, comandante dei vigili urbani di Carbonia negli anni 80-90 Il nostro ricordo in questo servizio vogliamo anche dire alla famiglia che la staff di Canale 40 si stringe al loro dolore per questa grave perdita Classe 1941, nato ad Adelfia, in provincia di Bari prima di diventare vigile urbano in Puglia Luca Lacasella aveva fatto parte della scorta per numerosi personaggi illustri del panorama nazionale italiano ed esponenti della politica come Aldo Moro, segretario e cofondatore della democrazia cristiana Una volta arrivato in Sardegna con la famiglia a Carbonia ha avviato per primo in tutta Italia a cavallo tra gli anni 80 e 90 una seria promozione del senso civico nelle scuole elementari come comandante dei vigili urbani recandosi personalmente nelle aule per insegnare ai bambini l'educazione stradale Luca Lacasella è stato anche commissario straordinario a Porto Scuso per poi terminare la sua carriera come comandante dei vigili urbani del comune di Sant'Antioco La redazione di Canale 40 si stringe al dolore della famiglia della moglie e dei figli per la perdita del loro amato padre e marito I funerali si svolgono oggi alle 15.30 a Calasetta paese che il signor Luca da sempre considerava la sua casa Ancora la cronaca anche in apertura di questa seconda parte del nostro telegiornale perché i carabinieri della stazione di Carbonia hanno denunciato un 48enne del posto per il reato di furto all'interno di un'abitazione nel centro città I dettagli nel servizio I carabinieri della stazione di Carbonia hanno denunciato un 48enne del posto per l'accusa di furto in un'abitazione L'uomo è accusato di essersi introdotto all'interno di una casa di Carbonia in pieno giorno tramite una finestra probabilmente dimenticata aperta e di aver trafugato diversi attrezzi da lavoro fra i quali una saldatrice, un martello demolitore una livella laser, alcuni trapani e una serie completa di filiere il tutto per un valore complessivo di oltre 2.000 euro la sua individuazione è stata possibile grazie alle indagini avviate dai militari dopo la denuncia asporta dalla proprietaria dell'abitazione e alla collaborazione di svariati cittadini che hanno offerto le proprie testimonianze le quali hanno permesso di risalire all'uomo già noto per reati specifici di carattere predatorio e al rinvenimento dell'intera rifurtiva che successivamente è stata riconsegnata ai legittimi proprietari un'operazione questa che dimostra la dedizione delle forze dell'ordine impegnate ad affrontare e contenere il grave fenomeno dei furti in abitazioni e attività commerciali nella città di Carbonia che tanto sta angosciando i cittadini un uomo di Carbonia ha confinato agli arresti domiciliari è già arrestato per evasione dagli stessi nelle settimane scorse è stato nuovamente sorpreso al di fuori della propria abitazione per questo è stato nuovamente arrestato un 48enne di Carbonia è stato nuovamente arrestato dai carabinieri per essere evaso dagli arresti domiciliari dopo il precedente arresto sempre per evasione avvenuto nelle settimane scorse GM queste le sue iniziali si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal mese di dicembre quando fu fermato dai militari con l'accusa di essere il responsabile di un furto in un appartamento nel centro della città di Carbonia dal quale venne trafugata e poi ritrovata e restituita a legittimi proprietari una refurtiva composta da monili d'oro e bigioteria varia il 48enne in quell'occasione fu sorpreso armato di gribaldelli e arnesi da scasso nonostante il nuovo arresto per evasione l'autorità giudiziaria ha deciso di concedergli i termini a difesa confermandogli dunque gli arresti domiciliari fino al processo fissato per il prossimo 11 marzo Manca ormai poco alla riapertura della Basilica di Sant'Antioco Martire spazio sacro delle reliquie della memoria del patrono della Sardegna nei mesi scorsi sottoposta a un importante progetto di consolidamento restauro e adeguamento liturgico il 15, il 16 e il 18 marzo la città si concentrerà su alcuni momenti di riflessione e analisi sui lavori eseguiti nella Basilica e sulla straordinaria figura di Sant'Antioco Martire con chiusura dedicata alle celebrazioni per la dedicazione della Basilica e la sua riapertura ai fedeli si terrà il prossimo venerdì 6 marzo alle 19 con partenza da Piazza Roma a Carbonia la fiaccolata organizzata dall'Associazione Centro Commerciale Carbonia produce sui temi della sicurezza in città il corteo si snoderà tra le vie del centro obiettivo della manifestazione secondo quanto espresso dagli organizzatori sarà quello di richiamare l'attenzione dei cittadini e delle istituzioni nei confronti dei fenomeni di criminalità che stanno interessando sempre più frequentemente la comunità di Carbonia mentre sabato 7 marzo alle 18 presso la sede del Circolo Sociero Al Coppo in Piazza Marmilla Carbonia verrà presentato il libro Gianas Sincantu dell'autrice Sabrina Barlini il volume è realizzato in modalità bilingue, italiano e sardo vuole raccontare ai bambini la storia antica della Sardegna partendo dai miti della Dea Madre e delle Gianas modererà l'evento Viola Seci infine andrà in scena venerdì 6 marzo alle 21 presso il teatro di Bacquabis lo spettacolo teatrale dal nome Sacca Badora liberamente ispirato appunto alle serve di Jean Genet è scritto e diretto da Susanna Mameli l'evento inquadrato nella programmazione inerente il progetto Teatro Civile ed è promosso dalla compagnia La Cernita con questo è tutto io vi ringrazio per averci seguito per aver scelto anche oggi l'informazione di Canale 40 vi lascio adesso alle previsioni meteo e a seguire tutta la nostra programmazione vi do appuntamento alle prossime edizioni del Tg arrivederci vi do appuntamento alle prossime